ciao bambini benvenuti in questo meraviglioso giardino ciao bambini e ciao emily benvenuta anche a te ciao 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 io volevo raccontare una cosa bene dimmi tutto vicino alla mia casa è venuta a vivere una bambina nuova una bambina che viene da un altro paese che bello sei stata molto felice allora di trovare una nuova amica sì io sono stata molto felice ma non so se lei è felice io vorrei fargli capire che è la benvenuta mi è venuta un'idea scommetto che è nel baule delle storie e certo dove se no andiamo 1 2 e 3 non c'è posto per tutti un posto per tutti non c'è ed è sciocco ripetere che c'è spazio si entra ci stiamo sciò non ti vogliamo non potremo dirti mai benvenuta tu e i tuoi cari questo scoglio è nostro sai puoi tornartene ai tuoi mari in nessun modo ora sarà tua la casa nostra non puoi restare ancora devi proprio andare via è così chiaro ormai voltati adesso vai non c'è posto veramente leggiamo alla rovescia risaliamo la corrente voltati adesso vai è così chiaro ormai devi proprio andare via non puoi restare ancora sarà tua la casa mia in nessun modo ora puoi tornartene ai tuoi mari benvenuto tu e i tuoi cari non potremo dirti mai sciò non ti vogliamo c'è spazio si entra ci stiamo ed è sciocco ripetere che un posto per tutti non c'è vieni emily allora cosa pensi puoi portare questo libro alla tua amica si le porterò questo libro e le darò il benvenuto mi sembra una splendida idea sono sicura che le nascerà sul volto un sorriso sì sono sicura anch'io grazie per l'idea grazie a te ciao bambini grazie a te ciao bambini Grazie a tutti.